Come è la prima giornata di competizione? Come è la prima giornata? Come è la prima giornata di giocare non ci può fare altro che bene, domattina cominciamo a mezzogiorno contro la Svizzera, l'abbiamo affrontata in amichevole ma adesso sarà tutta un'altra storia. Ripeto, l'importante è che facciamo quello che sappiamo fare, che ci divertiamo e che facciamo vedere che sappiamo giocare a Bicciangolo.